Cambiare, evolvere, rinascere. Tutti abbiamo desiderato farlo, almeno una volta nella vita. Microresina, un microfilm elastico all'acqua, vi aiuterà a rinnovare completamente gli ambienti di casa rendendoli contemporanei. Grazie all'ottima adesione su metallo, legno e PVC, microresina può essere applicata a porte, infissi interni ed esterni, corpi riscaldanti, mobili e altri elementi di arredo. È disponibile anche nelle versioni microresina floor per il redesign di pavimenti esistenti in ceramica, cemento e resina con un effetto morbido e setoso. E microresina parquet per rinnovare e proteggere i parquet vecchi o usurati. Rispettosa dell'ambiente, versatile e facile da applicare, microresina presenta una finitura pregiata dal colore uniforme e un'ottima resistenza al graffio, ai detergenti e ai disinfettanti. Microresina è solo una delle straordinarie superfici di Color Collection. Volete saperne di più? Tutti video sono disponibili su color.keracall.com